Momenti di tensione questa mattina sul ponte di via Fraggiarratana che sovrasta via Salemi nei pressi della chiesa di San Michele. Un operatore ecologico di 53 anni ha dato il via a quella che a suo dire era un'azione dimostrativa in favore dell'antenna RAI. L'uomo, che non è nuova iniziative forti e che in passato si era già fatto sentire sulla questione antenna, aveva richiamato l'attenzione di passanti automobilisti minacciando di gettarsi dal ponte se non gli fosse stato permesso di incontrare il questore o altri rappresentanti delle autorità, proprio per parlare dell'antenna. Immediatamente è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati polizia, carabinieri e anche i vigili del fuoco, i quali hanno subito approntato il cuscino gonfiabile nel caso l'uomo avesse realmente messo in atto il suo proposito. Le forze dell'ordine hanno cercato di far desistere il 53enne dal suo proposito e alla fine i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e al ricondurlo alla ragione. L'operatore ecologico è stato quindi accompagnato in questura per essere identificato e per gli accertamenti di rito. Sull'antenna RAI negli ultimi tempi si è creato un vero e proprio dibattito tra chi vorrebbe valorizzare la struttura, ormai spenta, che sorge sulla collina di Sant'Anne, e tra chi ritiene che andrebbe demolita. Ma era difficile pensare che si arrivasse anche ad assistere a un'azione dimostrativa del genere.